Abbiamo pensato con il nostro centro studi di utilizzare o di mettere assieme tutti i cori e tutte le fanfare delle quattro sezioni. Verranno prodotti due cd, uno per i cori e uno per le fanfare e su questo stanno già lavorando. Poi oggi abbiamo presentato anche il concorso nazionale Una Canzone per la Dunata dove tutte le corralità, il PNN, possono partecipare. Entro il 28 febbraio dovranno presentare una canzone, poi una commissione diretta da Galvani, che è responsabile della corralità del PNN, sceglierà la canzone che riterranno migliore. Come dicevo prima il legame col territorio è molto forte ma anche con le aziende. Sì, le aziende sono una parte fondamentale per poter organizzare la Dunata. Sappiamo che le adunate una volta venivano sponsorizzate o aiutate o sostenute più dalle amministrazioni locali, dalla provincia, dalla regione. Sappiamo quali sono i problemi attualmente dei comuni, della provincia e della regione. Perciò sempre più la Dunata dovrà sostenersi con fondi propri e poi aiutati dalle realtà locali. Proprio l'altro giorno abbiamo presentato l'Escotrade, che è il nostro main sponsor della Dunata. Altri ne abbiamo nei prossimi giorni. Però il territorio è risposto molto bene. I luoghi del Piave, riscoprire Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene, è un modo anche questo per scoprire il territorio? Penso sia stata la grande idea di tutti di organizzare la Dunata e chiamarla la Dunata del Piave. Poi la Dunata ha il suo motto, però questa per noi è la Dunata del territorio, la Dunata dei prodotti del territorio, delle recettività e chi più ne ha più ne metta.